Tutelare la famiglia, il riposo domenicale e le piccole e medie imprese altotesine. Sono questi i principi ispiratori degli indirizzi sulle aperture dei negozi al dettaglio approvati dalla Giunta Provinciale e presentati dall'assessore Thomas Widman. Distinguere tra centri storici e zone produttive è una delle colonne sulle quali si basa il nuovo ordinamento del commercio. Noi vogliamo creare ancora di più dei centri commerciali naturali nei centri storici. Questa è stata la nostra politica da decenni e questo è un vantaggio nostro e anche una cosa che altre zone non ce l'hanno. Vogliamo tutelare tutto quello che è verde agricola perché abbiamo molto poco come territorio che si può sviluppare o che potrebbe essere anche edificabile, solo 6% di tutto il territorio dell'Alto Adige. E dall'altra parte vogliamo che nelle zone produttive ci sia veramente la produzione e non commercio al dettaglio. Ogni anno saranno 35 le chiusure domenicali oltre a Natale, Pasqua e Pentecoste in tutti i comuni. Eccezione per le 17 realtà ad alta vocazione turistica dove le domeniche di chiusura saranno 22, 3 le festività. Nei comuni di confine, Curon, Tubre, Brennero, Salorno, San Candido, l'apertura sarà sempre consentita. Gli enti territoriali rappresentati dal Presidente del Consorzio dei Comuni Arno Compatcher hanno ora tre mesi di tempo per disciplinare la materia nel territorio di competenza. Abbiamo previsto che in questo regolamento delle aperture domenicali è possibile distinguere tra comuni turistici e comuni non turistici da una parte e dall'altra parte c'è anche la possibilità perché la competenza a livello comunale, il sindaco che decide, che si può distinguere tra per esempio Scenna e Selva di Valgradena perché le stagioni sono diverse, allora le 22 chiusure domenicali possono essere decise sul luogo. La nuova legge provinciale sull'ordinamento del commercio concordata con l'Unione Commercio, Turismo e Servizi e Confesercenti è attualmente al centro del confronto con il Governo per evitare l'iter di impugnativa davanti alla Corte Costituzionale. In Alto Adige si vuole infatti porre un freno alla liberalizzazione del dettaglio nelle zone produttive e alle aperture indiscriminate. Tra due settimane nuovo round di negoziati.